Che è un'elemosina, ha definito qualcuno. A me pare che sia evidente la contraddizione tra chi quegli 80 euro li sente nella propria quotidianità perché si rende conto che con 1.100 euro, se arriva a 1.180, gli cambia la vita di tutti i giorni e chi invece vive in una realtà diversa, parallela, che considera 80 euro sostanzialmente una mancia.